4 vai tenere, in subito destra 4 più tenere, 200, destra 5 meno, lezione 20, destra 2 lunga e sinistra 2 vai, 40, destra 3 meno vai, in subito sinistra 5 e destra 5, 100, sinistra 4 lunga vai fondo, 50 destra 3 vai, in sinistra 3 lunga lunga in subito destra 3 meno lunga lunga, 50, sinistra 5, 50, destra 20, sinistra 2 più lunga tenere, tenere e destra 2 lunga e destra 5, 100, sinistra 4 lunga vai fondo, 50, destra 3 vai il Monte Carlo del 1989 è finito senza particolari sorprese, Piazion è riuscito a cogliere il bis confermando tutta la sua grinta e regalando la quarta vittoria consecutiva alla Lancia nella importante gara di apertura della stagione grazie grazie